Sono contento perché me l'aspettavo, però la concorrenza era veramente forte, quindi mi sono allenato tanto anche nel periodo invernale per questi appuntamenti. È stata una dura battaglia perché abbiamo questo ragazzo italiano di Roma, Brando Caruso, che è molto forte, poi ci sono anche gli altri ragazzi internazionali, francesi e inglesi, che sono molto forti. Però è arrivata, andiamo avanti, sono contentissimo. Non me l'aspettavo, però sapevo di poter far bene. La voglia e l'amore per questo sport, perché nel mio DNA mi ha fatto crescere, insomma la mia famiglia mi ha insegnato appunto, mio padre mi ha insegnato questo sport, mi ha dato la possibilità di viaggiare il mondo, di conoscere tanti posti, conoscere tante persone, culture. Io senza scinautico non vivo, quindi sicuramente la voglia e la determinazione, ma anche penso un po' di... sono anche tanti anni che lo faccio, e quindi so come affrontare le gare anche in modo mentale e psicologico, quindi quello di sicuro mi dà una forza in più.